Si è tenuto questa mattina nell'antisala dei Baroni al Maschio Angioin l'incontro dedicato alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro intitolato NUNS POMMU REACUSI. Obiettivo dell'iniziativa promossa dall'Associazione Europea per la Prevenzione e dal Gruppo Consiliare Napoli Popolare è quello di offrire nuovi punti di vista sul tema e diffondere la cultura della sicurezza attraverso comportamenti e abitudini corrette. 641.000 infortuni nel 2018 di cui 1.133 mortali, 64.000 denunce di malattia professionale, oltre 20.000 accertate, non sono numeri che sto dando a caso. Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro sta a testimoniare un dato che le norme, benché esistano, sono buone, sono ottime, non riescono in qualche modo a creare un effetto di decremento delle cifre che sono ormai stabilizzate da decenni su questi numeri che le ho dato. Per cui stamattina noi abbiamo cercato invece di parlare di prevenzione, che è il vero aspetto che dovrebbe essere messo in atto. Presente tra gli altri l'atleta Domenico Nese, ideatore del tour italiano di 1000 km in bici, dedicato ai 1000 che nel 2018 hanno perso la vita sul luogo di lavoro, al quale il sindaco De Magistris ha consegnato una maglia rosa della sicurezza in segno di riconoscimento. Questa è un'iniziativa importante perché sensibilizza sulla sicurezza in generale ed in particolare la sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che mi è molto caro, ci è molto caro come amministrazione ed è anche importante la forma con cui si comunica l'importanza di alcuni diritti. Quindi ho apprezzato, siamo venuti qua a dire che la città di Napoli sui diritti e sulla sicurezza è come sempre in prima linea. Grazie. 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 Grazie.